Bene, allora buonasera a tutti, siamo qui con Martina Bosco Scuro e Jenny Barazza, care le mie straordinarie panterucce, allora mie, sono tutte nostre e invece siete libere e belle, bene, allora a questo punto io vorrei invece chiedervi cosa ne pensate intanto di questa bellissima serata, in questo inizio stagione che promette tante belle cose e intanto tra le belle promesse, vero Jenny, c'è Martina. Ciao a tutti intanto, è stata una bellissima serata, anzi è una bellissima serata, io mi vedo in famiglia quindi sono molto contenta dell'atmosfera, che altro dire, vediamo che cos'altro ti può venire in mente, qua per esempio ci sono un sacco di belle firme di altre compagne che hanno fatto già da testimonial o hanno aderito all'iniziativa di Cuore d'Arena, cosa pensi di questo gruppo e di queste iniziative, già il fatto che tu abbia aderito forse qualcosa vuol dire no? Beh, penso sia un'iniziativa bellissima e che sia importante sostenerle queste iniziative, mi sento onorata di essere una testimonial quindi sono molto felice. Bene, allora Martina è felice e invece Jenny è tristissima, guarda non ha un sorriso, proprio non sorride, niente, no invece Jenny che ha tanti anni che sostiene invece Cuore d'Arena sono mille, almeno mille, mille, meno mille uno dice, bene, no diciamo è già il secondo anno che sei a testimonial e lo fai sempre con grande entusiasmo, è sempre bellissimo vedere il tuo sorriso associato a queste belle iniziative. Sì sì è bellissimo, fare da madrina ad un'associazione così importante diciamo per noi e diciamo partecipare a queste iniziative è sempre, ti riempie il cuore e devo ringraziare loro per questa grande opportunità che mi hanno dato e niente speriamo di essere, di avere tempo e possibilità insomma di poter continuare a essere partecipi di queste iniziative e niente siamo qui a disposizione per voi. E questo è diciamo che il più bel viatico per iniziare quest'anno all'insegna dei buoni dei buoni comportamenti, dei buoni propositi, delle buone azioni e anche magari per buon viatico per una grande stagione anche nei campi di gioco, no? Certo. Adesso allora proviamo, non si può dire niente assolutamente per cui per fortuna noi siamo a mezzo busto, io posso permettermi anche delle escursioni sotto cutanee per cui diciamo non diciamo niente, diciamo solamente Forza Pantere, Forza Martina, Forza Jenny, Forza 4, Forza 4 e soprattutto Forza Cuore d'Arena e grazie a tutti voi, grazie e buona serata. Grazie.